Ancora droga sequestrata presso la casa circondariale di Ariano Erpino. A darne notizie il segretario regionale OSSERP Vincenzo Palmieri. Protagonista dell'intervento insieme agli agenti di polizia petensiaria è stato un cane da pastore belga. Tyson, nel nome del cane poliziotto dei nucleocinofili di Avellino, che ha fiutato la sostanza stupefacente detenuta da un recluso di origini napoletane al termine di un incontro avuto con la convivente. L'esito della brillante operazione è stata trasmessa all'autorità giudiziaria di Benevento. Non è la prima volta che il pastore belga riesce a intercettare anche ingenti quantitativi di droga nell'ambito petensiario. Il consigliere nazionale OSSERP Emilio Fattorello si è complimentato con il conduttore di Tyson. Il personale in servizio settore colloqui del calcio del Tricolle, il sindacalista sottolinea l'impegno della polizia petensiaria che nonostante la carenza di organico riesce a garantire la legalità e a contrastare trappici illeciti che minano i luoghi di pena.